Emergono nuove pesanti accuse sul padrigno di Evan allo piccolo e il bambino di neanche due anni di Rosolini, morto la maggiore di Modica, arrivato in condizioni gravissime a causa delle percosse subite nel tempo dal padrigno. A testimoniare infatti adesso è anche il fratello maggiore che ricorda quello che accadeva nella casa. Evan infatti sarebbe più volte rimasto vittima del compagno della mamma, Salvatore Blanco, che almeno una volta lo avrebbe preso dal collo sollevandolo da terra mentre il piccolo istintivamente sbatteva i piedini sospesi in aria. Questo è uno soltanto dei ricordi del fratello di Evan, morto lo ricordiamo nel 2020 quando aveva poco più di 20 mesi. Venerdì scorso, in udienza, infatti è stata ascoltata anche Daniela Di Stefano, la psicologa che prese in carico il fratello della vittima che all'epoca aveva meno di sei anni dopo che il piccolo morì. Sono imputati di omicidio Salvatore Blanco e la compagna Lerizia Spadola, madre del bambino. La psicologa, sempre venerdì, ha reso note le parole del fratellino, figlio della stessa madre, che avrebbe ammesso le percosse di Blanco. Secondo quanto dichiarato dalla Di Stefano, il fratello di Evan, durante le sedute, avrebbe anche mimato il gesto di strangolamento sul corpicino del bambino che Blanco avrebbe preso per il collo sollevandolo da terra. A esercitare violenza su madre e figlio, sempre secondo la narrazione del fratello, sarebbe stato anche il padre, Stefano Lopiccolo, assente in aula per motivi personali, in particolare durante l'ultimo periodo di relazione con la donna. Anche Lopiccolo era inizialmente indignato per i maltrattamenti. È stata ascoltata anche la nonna di Evan, Elisa Conciu, che vide il bimbo prima nel mese di maggio e poi a giugno. La donna ha riferito di aver notato in entrambi i casi dei lividi sul corpo del bambino, che in un secondo momento l'avrebbero fatta pensare ad aggressioni fisiche. Si tornerà in aula il 25 marzo, quando Lopiccolo interverrà in videoconferenza per testimoniare.